In questo video ti voglio mostrare alcune delle novità che potremo trovare nella prossima versione 6.4 di WordPress, che verrà rilasciata il prossimo 7 novembre 2023, alla luce della recente versione beta che è stata resa disponibile il 26 settembre. Iniziamo con il nuovo tema 2024 che sarà il tema di default della prossima versione 6.4 di WordPress. Si tratta ovviamente di un tema a blocchi e rispetto ai precedenti temi di default di WordPress è un tema molto più versatile, si adatta quindi a diverse esigenze. Passando rapidamente in rassegna alcuni dei pattern disponibili su questo nuovo tema puoi vedere alcuni pattern pensati in utilizzo più aziendale e professionale a quelli per un sito portfolio, a quelli per un sito diciamo di un normale blog basato sulla pubblicazione di articoli e di altri contenuti. Un'altra novità è il probabile arrivo di una font library su WordPress. Attualmente in questa beta questa funzione non è ancora disponibile ma sarà intradotta nelle beta successive. Si tratta di uno strumento che permette di installare e gestire diversi tipi di caratteri, sia Google Fonts, sia font locali, quindi potranno essere caricati e gestiti attraverso l'interfaccia di WordPress. Un'altra piccola ma utile novità è l'aggiunta del supporto alla funzione Lightbox sul blocco immagine. In pratica, quando aggiungi un'immagine attraverso il blocco immagine puoi attivare la possibilità di espandere quell'immagine con un clic, come vedo in questo esempio, senza installare alcun plugin aggiuntivo ma semplicemente con lo strumento nativo dell'editor a blocchi di WordPress. Sempre restando sul blocco immagine è ora possibile anche definire il formato dell'immagine, senza quindi dover per forza ricaricare o modificare l'immagine con un editor esterno ma puoi adattare il formato in base al tipo di contenuto, al tipo di contenitore nel quale ha inserito il contenuto immagine. Come puoi vedere, oltre al formato originale, sono disponibili sette formati già pronti all'uso. Un'altra utile funzionalità è stata aggiunta anche al blocco gruppo, un blocco utilizzato normalmente per creare delle sezioni all'interno di una pagina o dei contenuti del tuo sito. Ora è possibile selezionare un'immagine come sfondo di un blocco gruppo, cosa che nelle precedenti versioni di WordPress non era possibile perché al massimo si poteva scegliere un colore di sfondo. La vista elenco è quella funzione che ti permette di accedere rapidamente a tutto l'elenco dei blocchi presenti in una pagina o in un articolo dell'editor a blocchi. Con la nuova versione di WordPress è possibile rinominare il blocco gruppo, in modo da rendere più facilmente chiaro e comprensibile la struttura della tua pagina. Ma non solo, è ora possibile vedere l'anteprima del blocco immagine e del blocco galleria, in modo da vedere immediatamente che tipo di immagine è contenuta in quei particolari tipi di blocco. Utilizzando poi la scorciatoida tastiera maiuscole Command-D se sei su Mac o maiuscole Control-D se sei su PC, duplicare rapidamente un blocco usando semplicemente la tastiera. La Command Palette, quella funzione introdotta in WordPress 6.3 e accessibile premendo il pulsante Command-K su Mac o Control-K su Windows, vede in WordPress 6.4 nuove funzionalità, come ad esempio questa che permette, con un semplice comando da tastiera, di trasformare un elenco di immagini in un blocco galleria. I pattern sono una comodissima funzionalità dell'editore blocchi che consente di salvare una particolare configurazione di blocchi per essere riutilizzata poi in futuro. In WordPress 6.4 è ora possibile creare anche delle categorie personalizzate per organizzare meglio i propri pattern. Come in questo caso vediamo che creiamo un nuovo pattern, creiamo una nuova categoria e andiamo a salvare questo nuovo pattern. Spostandoci poi nella sezione di gestione dei pattern, possiamo vedere, andando a vedere i miei pattern, il nuovo pattern appena creato. Nell'elenco sulla sinistra vediamo anche che è presente la nuova categoria, Content Section, che abbiamo appena creato, che continua appunto il nostro pattern personalizzato. Quelle che abbiamo visto in questo video sono alcune delle principali novità presenti in questa beta di WordPress 6.4. Come per molte altre versioni di WordPress precedenti, anche nella 6.4 sono presenti un gran numero di migliorie, piccoli aggiustamenti, correzioni, come ad esempio miglioramenti per l'accessibilità, miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni, che chiaramente non sono così visibili come le principali funzionalità che abbiamo visto, ma sono estremamente importanti per la crescita di una piattaforma di un CMS come WordPress. Se hai trovato utile questo video ti invito a iscriverti al canale e attivare le notifiche, è un gesto che apprezzo molto e che ti permette di ricevere aggiornamenti quando pubblicherò i prossimi video.